Musica Che vita, la vita di Don Bosco! La classe terza della scuola primaria To Be Together è lieta di proporvi un assaggio dell'infanzia della vita di San Giovanni Bosco, santo e patrono di tutti i bambini e giovani. Accompagneranno la nostra storia a quattro quadri che come per magia si animeranno. Ora mettetevi i comodi e buona visione! Ci siamo! La prova di oggi è decisiva. I costumi sono pronti in camerino. Gli oggetti di scena li abbiamo recuperati tutti. Le musiche scelte. E anche le immagini. Sappiamo ciò che dobbiamo dire. Certo che... A cosa stai pensando? A quello che andremo a rappresentare. Sicuramente è un nuovo personaggio da conoscere. Baccia Polone! Si va in sera! Dai Giovanni, seguimi! Devi prendere qualcosa? Lo sai che mi manca un po' d'olio in cucina? Quello che ho fatto cadere io col vaso? Vedo che te lo ricordi bene, ma almeno non mi hai detto bugie. Però la prossima volta sta più attento perché l'olio costa caro. Guarda la mamma, guarda quanta gente c'è. Lo farò anch'io per Piero, Pietro, Anna, il secondo e tutti gli altri. Potrò usare il fianile, lì sì che ce n'è di spazio. Mi racconterai le tue imprese, Giovanni, e le vedrò anche. Ecco mamma, questo è quando tutto sarà pronto. Il posto sistemato, la gente mi acclanerà. E io mi dirò qualche pensiero che ho sentito domenica scorso dal prevosto in chiesa. Viva il caldo, viva il riposo, viva Margherita! Lo sai che non lasciamo mai nessuno sulla strada? Pensavo di arrivare fino al paese, ma forse ho sbagliato i conti. I tuoi piedi sembrano due pezzi di ghiaccio. Con il tuo fuoco? Ah, sì che si sta proprio bene! Però prima sarà il caso di metterti anche qualcosa nello stomaco. Vado a scaldare una scodella di brodo? Bravo Giovanni, si fa proprio così, non dimenticartelo mai. Io arriverò lassù! Davvero? Sei goloso di salame? Ma che salame! Mi serve quella borsa e quel denaro per andare a studiare in città. Ma farò un sacco di fatica per salire lassù. Farò tutto quel che c'è da fare. Sei sicuro? Starò anche tutto il giorno appeso su quel palo se necessario. Sei proprio convinta allora? Chissà cos'altro faresti per inseguire i tuoi sogni. Andrò a bussare in porta in porta a chiedere aiuto alla gente buona. Ho avuto un'idea! Che cosa vuoi farci fare? Siamo curiosi! Fondiamo un gruppo e lo chiamiamo la Società dell'Allegria. Il nome mi piace. Dove le studi certe idee? Beh, deve essere la mia simpatia per i giovani e ancora più per quelli che soffrono. Diventeremo il lievito che fa crescere le pagnotte buone. Pagnotte? Sì, intendevo dire che questo gruppo deve essere il lievito nell'ambiente in cui vive. E cosa dovremmo fare? Usiamo anche noi la nostra fantasia. D'altronde, allegria significa gioco, serenità, vita e buon umore. Sarà vietato tutto ciò che provoca malinconia e tristezza. Gli ragazzi saranno contenti di incontrare questo gruppo. Prova però ad andare a dire loro di praticare l'arte del buon vivere. Faremo anche questo. Del resto, vivere nel disordine non provoca malinconia e tristezza. E anche delusione. Faremo anche questo. Sarà vietato tutto ciò? Sarà vietato anche questo. Vedrete, i ragazzi lo impareranno. Se saremo noi primi a farlo. Proprio così. Grazie. 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 Grazie.